Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi parliamo delle mappe, quindi concludiamo l'argomento delle Java Collection. Prima vorrei fare una precisazione sull'esercizio che abbiamo visto l'ultima volta. Il messaggio che vorrei che vi fosse passato è il seguente. Java Collection offre diverse implementazioni per dei contenitori di dati. Queste implementazioni vanno conosciute perché ci sono delle situazioni in cui utilizzare un'implementazione piuttosto che un'altra è cruciale per il funzionamento del programma. Infatti l'altra volta abbiamo visto che inserendo 100.000 elementi all'interno di una lista implementata come array list o linked list non è stato un problema, ma quando ho provato a eliminare perché utilizzavo contains e quindi dovevo iterare 100.000 elementi, la lista non mi dava risultato in diversi secondi, infatti ho dovuto terminare il programma manualmente. Utilizzando invece un hash set è stato possibile non solo eliminare gli elementi richiesti, ma farlo anche sotto il secondo, impiegando decimi o centesimi di secondo, adesso non ricordo. Quindi utilizzare un'implementazione piuttosto che un'altra ha fatto sì che un programma che non terminava terminasse in meno di un secondo. Quindi questo è il concetto della complessità e per questo è importante conoscere le diverse implementazioni della Java Collection. Oggi introduciamo le mappe che come concetto dovreste già conoscere, ma vediamo un pochino più nel dettaglio come funzionano. Che cos'è una mappa? La mappa è un array associativo, chiamata anche dizionario in alcuni linguaggi di programmazione ed è un tipo di dato astratto che permette di inserire delle coppie chiavi valore. Quindi ad una chiave viene associato un valore. La chiave deve essere unica, la chiave inserita in una mappa deve essere unica, mentre i valori possono essere ripetuti. Il concetto di array associativo è un concetto nativo nei linguaggi di programmazione più moderni, come esempio il Perl, Python, Rubigo, eccetera. Invece in Java viene implementato, come tutte le altre collection, nel Java Collection Framework. L'implementazione sottostante si basa o su una hash table oppure su una struttura dati ad albero. Oggi noi ci concentriamo sulla struttura hash table perché è molto simile a quella che abbiamo visto questa settimana dell'hash set. Invece lasciamo lo studio della struttura dati ad albero per le prossime settimane. Quindi qua vediamo subito un esempio in questo slide. Vediamo che inseriamo in una struttura dati il valore h2 giù che corrisponde alla chiave 42. Quindi alla chiave 42 corrisponde questa stringa. Poi mi chiedo, credo che ci sia un errore perché se io richiedo il 42, la chiave 42, mi deve essere restituito il valore h2 g2. Forse l'esempio in questo caso non è chiarissimo in effetti. Dunque, il concetto qual è? Inserisco una coppia chiave valore, inserisco una chiave e inserisco un valore associato a quella chiave. Quando chiedo qual è il valore associato a quella chiave, mi viene restituito. Adesso vediamo un esempio migliore. Rispetto all'albero della gerarchia della Java Collection, ci posizioniamo nella seconda parte, nel secondo albero, quello in cui si tratta dall'interfaccia mappa, map. L'interfaccia map supporta il generics, come tutte le Java Collection, quindi è possibile specificare il tipo di oggetto chiave, il tipo di oggetto valore che andremo ad utilizzare e questo permette di fare tutti i controlli a tempo di compilazione. Poi i metodi principali sono il metodo put, il metodo remove, il metodo get. Il metodo put funziona che si inserisce una chiave ed un valore, il valore associato alla chiave, la chiave deve essere unica in tutta la collezione. Remove, ossia rimuovo l'oggetto associato a quella chiave. Get, ottengo l'oggetto associato a quella chiave. E poi abbiamo anche delle funzioni di ricerca che sono contains key, ossia la collezione, la mappa, contiene questa chiave oppure contiene questo valore. Ci sono poi un'altra serie di metodi che vengono definiti nell'interfaccia mappa. I più interessanti secondo me sono gli ultimi due, key set e values, che restituiscono una collezione rispettivamente di tutte le chiavi della mappa e di tutti i valori contenuti nella mappa. L'interfaccia mappa ha delle implementazioni concrete, in particolare ci interessano la linkedashmap, l'hashmap e la trimap. Adesso iniziamo a guardare la hashmap. L'hashmap, il suo funzionamento è molto simile all'hash7, che abbiamo visto la scorsa settimana. Si basa sul concetto di chiave, ossia abbiamo un universo, su questo universo sono definite alcune chiavi. Grazie alla funzione di hash è possibile trasformare la chiave in un indice. Quest'indice mi identifica la zona dell'array, della struttura dati sottostante dove iniziare la ricerca. Ho visto che purtroppo, usando tutte le strutture dati basate sull'hash, si verifica un fenomeno chiamato collisione, si verifica nel momento in cui, date due chiavi diverse, la funzione di hash genera lo stesso indice, per risolvere una delle soluzioni è quella di creare una linked list a partire da ogni settore, da ogni zona individuata nell'array dall'indice generato dalla funzione di hashcode. Quindi, con la funzione di hashcode ottengo, ho un'idea di dove andare a cercare, quest'idea potrebbe, è generalmente molto precisa, infatti la funzione di ricerca è costante, nella maggioranza dei casi, se ci sono delle collisioni cercano in questa linked list. A differenza della scorsa settimana, dove in ogni elemento della linked list avevo semplicemente una chiave, perché l'hash set prevedeva di inserire soltanto dei valori e il valore corrispondeva alla chiave, in questo caso nella hash map ad una chiave corrisponde un valore. E come vedete le chiavi sono tutte diverse, in questo esempio anche i valori sono tutti diversi, ma sappiamo che i valori potrebbero essere duplicati, le chiavi no. Quindi, la collezione hash map non permette chiavi duplicate, i valori lo possono essere, il meccanismo del chaining non viene utilizzato per inserire, per ammettere chiavi duplicate nella collezione, ma viene semplicemente utilizzato per gestire la situazione in caso di collisioni, in caso in cui si verifichano collisioni. L'hash map è una collezione che non ammette chiavi duplicate, non è ordinata e non prevede quindi nessun ordinamento, né ascendente che discendente. L'implementazione è basata sulla hash table, che è la stessa che abbiamo visto la scorsa volta, quindi significa l'operazione di inserimento, di richiesta di una chiave, di rimozione del valore associato ad una chiave, e sapere se la chiave è contenuta nella collezione, sono operazioni costanti, quindi o grande di uno, nella maggioranza dei casi. Per utilizzare una hash map, come abbiamo visto la scorsa volta, è necessario fare l'overriding di due metodi, che sono l'hash code e l'equals. Overriding che va sempre fatto, anche se mi interessa soltanto ridefinire uno dei due, devo sempre ridefinirli entrambi, perché la loro implementazione deve essere uniforme. Una cosa importante, che non avevo specificato la volta scorsa, è che la chiave, l'oggetto chiave, deve essere immutabile. Questo perché? Perché se io ridefinisco hash code per un determinato oggetto, e l'hash code lo ridefinisco, ad esempio, nel caso di uno studente, nel caso dell'oggetto studente, potrei utilizzare come hash code la sua matricola. Se utilizzo la matricola e poi successivamente cambio la matricola dello studente, l'implementazione della hash map non funziona più. Questo perché? Perché il metodo hash code deve restituire sempre lo stesso risultato su tutta la durata del programma. Quindi il concetto di immutabilità è legato a questo. Il valore di hash code deve restituire sempre lo stesso risultato. Il valore di equals deve restituire sempre lo stesso risultato. Hash code e equals sono applicate a delle proprietà dell'oggetto, che potrebbero riguardare l'intero oggetto soltanto una parte. Queste proprietà non dovrebbero essere modificate durante l'esecuzione del programma. Giusto per chiarire qual è la differenza tra hash map e hash set, vediamo questo slide. Allora, la hash map è una collezione che permette di inserire delle copie chiave valore, dove a ciascuna chiave è associato un valore. L'hash set invece permette semplicemente di inserire degli oggetti. E a differenza di una lista abbiamo visto che l'hash set permette di inserire degli oggetti, ma questi non devono essere duplicati. In entrambi i casi la chiave non deve essere duplicata. La collezione non è ordinata, quindi non prevede il concetto di ordinamento. Infatti abbiamo detto che la principale differenza tra un hash set e una lista, oltre alla non possibilità di inserire duplicati, è quella in cui si perde il concetto di indice, di accesso posizionale. Perché la posizione di dove un oggetto viene salvato viene calcolata tramite la funzione di hash code che trasforma un qualsiasi oggetto in un indice. Poi abbiamo visto che l'implementazione si basa su un hash table per utilizzare e definire due metodi, hash code e equals, ed è importante che le proprietà su cui questi metodi sono ridefiniti rimangano immutate durante tutta l'esecuzione del programma. Qual è la complessità di utilizzare una hash map? Tutte le operazioni che coinvolgono l'utilizzo della chiave sono generalmente grandi di uno, quindi sono costretamente veloci, indipendenti dalla struttura della grandezza della mappa. Il problema si ha quando invece voglio utilizzare la funzione ossia dato un oggetto voglio sapere se questo oggetto è contenuto all'interno della collezione. Perché è un problema questo? Perché non ho nessun modo veloce per sapere se questo oggetto è contenuto nella collezione se non quello di iterare su tutta la collezione. Per questo motivo la complessità è un grande di n, quindi dipende linearmente dalla dimensione della collezione. In questo caso si comporta come una lista, quindi se voglio sapere se un valore è presente all'interno di una hash map ho la stessa complessità nel caso in cui volessi sapere se un valore, se un oggetto è contenuto all'interno di una lista. Perché devo scandirla tutta nel peggiore dei casi, perché potrebbe essere in un'ultima posizione. ContainsValue potenzialmente ha una complessità o grande di n. Uno dei problemi della hash map è che non prevede un concetto di ordinamento. Per questo motivo è stata creata la link-dash map, che è molto simile al link-dash set che abbiamo visto la scorsa settimana. Ossia è una struttura dati che si bada sia su un hash table, ma prevede anche una lista doppiamente linkata. Quindi, come prima, le operazioni di inserimento, richiesta di un valore associato ad una chiave, rimozione di un elemento, e sapere se la collezione contiene una chiave, sono tutte operazioni che hanno ancora complessità o grande di uno, quindi costante. non ammette chiavi duplicate, ma ammette valori duplicati, e prevede un concetto di ordinamento. L'ordinamento è quello del... è generalmente l'ordinamento di inserzione, quindi la lista è ordinata, questa double link-dash list è ordinata, a secondo dell'ordine di inserimento. non permette però di ordinare gli elementi secondo un altro criterio. Se volessimo ordinare gli elementi secondo un altro criterio, che non è quello di inserimento, dovremmo utilizzare un'altra struttura dati, in particolare il tree map, che si basa su una struttura dati ad albero, che permette sia l'ordinamento naturale degli oggetti, quindi se l'oggetto implementa comparable, è possibile ordinare due oggetti, oppure con un ordinamento definito, implementando l'interfaccia comparator. Tuttavia, siccome la struttura dati su cui si basa è la struttura dati ad albero, che non abbiamo ancora visto, rimandiamo l'analisi di questa variante e della mappa alla prossima settimana. Adesso vorrei un attimo ancora ricapitolare su tutto quello che abbiamo visto riguardo alle Java Collection, in quanto credo che siano molto importanti. Allora, abbiamo visto che il cuore del Java Collection Framework sono due gerarchie di interfacce. Una fa capo all'interfaccia Collection e l'altra fa capo all'interfaccia Map. L'interfaccia Collection definisce quali sono le operazioni di base che possono essere effettuate su un ADT, su un Abstract Data Type, che sono quelle di aggiunta e rimozione, quelle di ottenere un elemento, e poi la possibilità anche di iterare sulla collezione. La mappa, invece, associa un valore ad una chiave e quindi permette l'inserimento di copie di chiave di valore. Queste interfacce definiscono delle operazioni, questo concetto è molto importante, queste interfacce definiscono delle operazioni che sono indipendenti dal tipo di dati che poi andremo a inserire. Infatti, tutte quante supportano i generics, che è quella sintassi in Java che permette di definire qual è il tipo di oggetto che andrò ad inserire in una collezione, in modo tale che possano essere effettuate una serie di verifiche in fase di compilazione, per evitare che metta due tipi di oggetti che non sono compatibili all'interno della stessa collezione. Quindi, riguardo alla prima gerarchia, questa fa capo all'interfaccia Collection. Ed è poi vengono poi definite una serie di sottointerfacce che sono l'interfaccia set, l'interfaccia code, l'interfaccia lista che definiscono le strutture dati più specifiche rispetto a Collection. In particolare, set non permette di inserire elementi duplicati, quindi è particolarmente utile se ad esempio voglio tenere traccia degli studenti, gli oggetti tipo student oppure gli oggetti tipo carte da gioco. La lista invece fornisce è un'interfaccia che definisce una collezione che prevede il concetto di ordinamento, perché gli oggetti all'interno della lista sono ordinati. L'ordinamento di base è quello sulla base dell'inserimento, però è possibile specificarne un altro e organizzarla utilizzando l'ordinamento naturale degli elementi oppure specificando un comparator. Ci sono poi altre due interfacce che sono quelle della coda Q e DQ che non abbiamo visto ancora ma utilizzeremo più avanti e l'implementazione di base della coda è la linked list che è anche l'implementazione di una lista. Infatti vedete che la linked list ha due freccine, una perché implementa l'interfaccia lista e una perché implementa l'interfaccia DQ. noi cosa abbiamo visto? A partire dall'interfaccia collection abbiamo visto l'interfaccia set e l'interfaccia list e come implementazioni concrete abbiamo visto l'array list la linked list come implementazione set invece abbiamo visto la linked hash set e l'hash set ci manca da vedere il tree set quando vedremo poi le strutture ad albero e parallelamente a questa gerarchia ve ne è un'altra che è quella che fa capo all'interfaccia mappa che permette in se coppie che vi valore c'è anche un'interfaccia che eredita una mappa che si chiama sorted map che è una mappa ordinata dove gli elementi sono ordinati a seconda dell'ordinamento naturale oppure quello specificato da un comparator la sorted map è implementata nella tree map che però non l'abbiamo ancora visto mentre l'interfaccia map è implementata nell'hash table nella linked hash map e nell'hash map noi ci siamo concentrati su due versioni che sono l'hash map e la linked hash map quindi vediamo un'altra tabellina che ricapitola l'utilizzo del java collection framework hash map hash table tree map linked hash map sono tutte implementazioni della mappa la differenza è che l'hash map non prevede il concetto di ordinamento invece la tree map prevede un concetto di ordinamento e in particolare gli elementi sono ordinati utilizzando l'ordinamento naturale nella linked hash map invece è sempre una mappa basata su l'implementazione della hash map ma siccome prevede anche una lista doppiamente linkata è possibile avere un ordinamento quindi è possibile ottenere gli elementi secondo l'ordine di inserzione poi abbiamo il set quindi l'hash set il tree set linked hash set è in modo simile a come abbiamo visto per le mappe l'hash set non prevede l'ordinamento nel tree set invece non solo è previsto l'ordinamento ma gli oggetti sono anche ordinati con ordine crescente secondo l'ordinamento naturale o quello specificato se si implementa comparator nel linked hash set invece come prima abbiamo l'implementazione che si basa su un hash table più una lista doppiamente linkata che tiene traccia di come gli elementi sono stati inseriti all'interno della collection infine abbiamo due implementazioni per le list che sono l'array list e la linked list l'implementazione vector non l'abbiamo vista e entrambe prevedono un ordinamento che è basato sull'indice quindi prevedono gli oggetti sono ordinati perché la differenza principale tra il set e la lista è che nel set si perde il concetto di ordinamento perché non si ha l'accesso posizionale e quindi ci sono altre strutture dati nel set come la linked hash map come il linked hash set e il tri set che servono a inserire un concetto di ordinamento anche nel set quindi abbiamo visto tutte queste strutture dati vediamo quando utilizzare una piuttosto che l'altra iniziamo con una domanda sono interessato ad inserire quindi se ho il mio problema devo implementare la mia applicazione devo decidere quale strutture dati utilizzare quindi la prima domanda che mi pongo è sono interessato ad inserire dei singoli oggetti o delle coppie chiave valore se sono interessato ad inserire delle coppie chiave valore allora mi chiedo è importante l'ordinamento? se l'ordinamento non è importante utilizzo una hash map se invece l'ordinamento è importante mi chiedo devono essere ordinati in modo crescente o decrescente? se è così devo utilizzare una tree map se invece mi interessa semplicemente un ordinamento che tenga traccia dell'ordine di inserimento degli oggetti nella collection allora utilizzo una link ed hash map alternativamente se non sono interessato ad inserire delle coppie chiave valore o voglio inserire semplicemente degli oggetti nella collezione questa collezione se può contenere dei duplicati l'unica alternativa è utilizzare una lista quindi un array list una linked list se non sono interessato a inserire dei duplicati allora mi interessa poter cercare gli elementi con contains e remove se non mi interessa utilizzare le funzioni contains e remove potrei utilizzare un array list o una linked list perché di nuovo la linked list funziona anche se ci sono elementi che non sono duplicati lo stesso è l'array list semplicemente sappiamo che le prestazioni sono inferiori nel momento in cui vado a cercare un elemento all'interno di queste strutture dati se invece voglio una struttura dati che non permette duplicati in cui l'ordinamento è importante allora devo rivolgermi ad una delle due implementazioni del set che prevedono l'ordinamento quindi il 3 set o il link dash set il 3 set è sorted quindi all'interno del 3 set gli elementi sono ordinati secondo l'ordinamento naturale invece nel link ad hash set sono ordinati secondo l'ordine di inserimento se invece l'ordinamento non mi interessa utilizzo un hash set nulla vieta di utilizzare un link ad hash set al posto di un hash set però aumenta l'overhead perché questa lista doppio linkata si porta dietro per ogni oggetto dei riferimenti quindi questi riferimenti occupano memoria è abbastanza chiara questa slide avete delle domande a riguardo? sono solo delle regole delle semplici regole la scorsa settimana abbiamo visto quando utilizzare un array list e una linked list sappiamo che la linked list è particolarmente utile quando dobbiamo togliere rimuovere elementi aggiungere elementi in particolare è utile se utilizziamo l'iterator perché queste operazioni sono costanti iterator.remover iterator.add tuttavia il consumo di memoria della linked list è superiore a quello di un array list rivedendo la complessità vediamo che il set ha complessità costante per l'aggiunta e la rimozione di elementi e anche ha complessità costante per sapere se voglio sapere se la mia collection contiene un oggetto diciamo che questa qui è la complessità dell'hash set perché è del linked hash set perché se invece utilizzo un tree set devo sostituire a o grande di 1 o grande di log n perché in quel caso la complessità è logaritmica e con cui rimane un'ottima complessità nella mappa la complessità è simile a quella di un hash set quindi è sempre o grande di 1 ogni qualvolta utilizzo il concetto di chiave diventa o grande di n se voglio sapere se la collection contiene un valore poi abbiamo visto lo ripeto ancora una volta perché sia estremamente chiaro quando utilizzare uguale uguale soltanto se voglio confrontare due riferimenti di memoria utilizzo equals per avere informazioni sull'uguaglianza di due oggetti utilizzo sempre equals e compare to per sapere se i due oggetti sono uguali hash code ogni volta che ridefinisco equals devo anche ridefinire hash code e devo selezionare all'interno dell'oggetto le proprietà che univocamente mi identificano quell'oggetto potrebbero essere tutte le proprietà la scorsa volta abbiamo visto l'esempio dell'impiegato che era identificato dal nome cognome età nel caso di uno studente nome cognome età e matricola basta inserire la matricola perché le altre informazioni sono duplicate perché già so che la matricola è sufficiente identificare in modo univoco uno studente compare to è un metodo di cui faccio l'override soltanto se implemento l'interfaccia comparable e implemento l'interfaccia comparable ogni qual volta voglio definire qual è l'ordinamento naturale di due oggetti ordinamento naturale si parla di ordinamento naturale quando ridefinisco l'interfaccia comparable quando implemento l'interfaccia comparable all'interno della mia classe se invece implemento l'interfaccia comparator allora sto specificando un ordinamento che non è quello naturale ok ci sono delle domande su questa parte sì allora ordered significa che è previsto un concetto di ordinamento ossia esiste il concetto di elemento successivo ed elemento precedente a quello corrente in un array se vado nella casella 20 esiste un elemento che si trova alla casella 21 e un elemento che si trova alla casella 19 che sono rispettivamente il successivo e il precedente esiste un conto di oritomia è la stessa cosa succede in una link dashmap dove non ho le caselle di un array ma ho dei puntatori che mi dicono qual è l'elemento successivo e qual è l'elemento precedente sorted invece è una condizione più restrittiva perché sorted mi dice che non solo esiste un concetto di successivo e precedente ma il successivo è più grande del precedente perché sono proprio ordinati in modo crescente o decrescente altre domande? allora se non avete domande passiamo a fare un paio di esercizi il primo vi proporrei partendo dalla soluzione che avete visto la scorsa settimana forse anche ieri del libretto quindi io proporrei di clonare il progetto adesso vado su Eclipse importa progetto da git clon URI non sono connesso all'internet quindi non riesco ad accedere qui seleziono i branch che voglio importare li seleziono entrambi lo importo nel mio workspace di Eclipse allora questa è la versione semplificata quindi non è ancora quella che prevede l'utilizzo del database però è già la versione in cui è stato introdotto il concetto di model view controller provo a rispiegarla anche io ma di sicuro la saprete già il controller cos'è? è quell'entità che si occupa di controllare un'interfaccia per ogni interfaccia grafica ha un controller quindi potrei avere tanti controller perché per ogni view per ogni extra ha un controller il model invece direi è il programma in sé è la parte intelligente del program è quella che svolge tutte le attività quella che accede al database quella che accede appunto alle risorse e al suo interno definisce tutte le strutture dati tutti gli algoritmi per svolgere le funzioni di quel programma nello specifico il model funziona correttamente anche in assenza di un'interfaccia grafica quindi l'interfaccia grafica è un di più è semplicemente un'interfaccia il controller rappresenta un'interfaccia tra l'interfaccia grafica e il model quindi non ci deve essere alcuna logica all'interno del controller ad esempio ci sono queste due classi test model e test esame che vengono utilizzate per testare il model perché come ho detto il model funziona anche in assenza del controller quindi questa applicazione la conoscete bene provo ad eseguirla soltanto una volta per controllare che sia tutto corretto quindi inserisco il codice di un esame inserisco il codice di un esame mi dice che tutte le informazioni sono state aggiunte correttamente quando poi faccio la ricerca per codice se non metto nulla mi dice che il codice del corso non è valido se invece metto un codice corretto mi dice che il codice è stato trovato e in più mi riempie queste informazioni l'implementazione nel model prevede di utilizzare una lista in particolare un array list però noi sappiamo che potrebbe essere più corretto utilizzare un altro tipo di struttura dati perché ciascun esame è caratterizzato da un codice e quindi come abbiamo visto nelle slide di prima torniamo nel nostro schemino come abbiamo visto in queste slide partiamo da start e ci chiediamo siamo inseriti e siamo interessati ad inserire una coppia che aveva valore potremmo essere interessati perché di fatto un esame è un oggetto che ha un valore ossia potrebbe essere l'esame di per sé e poi anche una chiave che è il codice dell'esame quindi potrebbe utilizzare una mappa alternativamente potrebbe utilizzare anche un set perché considero l'esame come un oggetto unico quindi non come una coppia chiave valore so che gli esami non possono essere duplicati perché ciascun esame ha un codice e questo codice per definizione non può essere duplicato sono interessato a utilizzare funzioni come contains e remove in particolare contains e l'ordinamento non è importante perché non sono interessato all'ordine in cui inserisco gli esami nel mio libretto quindi potrebbe benissimo utilizzare un hash set in alternativa potrei anche utilizzare un hash map utilizzando come chiave una stringa che è il codice dell'esame proviamo a vedere l'implementazione con entrambe le strutture dati e vedere differenze e quale potrebbe essere la migliore adesso non vorrei confondervi le idee ma in java l'implementazione dell'hash set è identica a quella della hash map questo molto probabilmente è fatto per un discorso di ottimizzazione interna del codice però in fondo le strutture dati sono molto simili perché entrambe si basano su un hash table entrambe prevedono il concetto di chiave l'unica differenza è che in un caso il valore che vado a inserire è la chiave in un altro caso invece il valore che vado a inserire è associato ad una chiave quindi sono due oggetti separati quindi tolgo questa dichiarazione tolgo anche questa inizializzazione e scrivo private hash hash set esame specifico il tipo di oggetto che andrò a inserire nella collezione lo chiamo esami come prima uguale a null importo hash set e poi nel costruttore inizializzo questa struttura dati quindi esami uguale a new hash set esame aperto tonda chiuso tonda la cosa interessante è che hash set e linked list entrambe ereditano entrambe implementano l'interfaccia collection quindi hanno ridefiniscono gli stessi metodi per cui a parte il metodo index of non devo cambiare nulla perché sono passato da un array list a un set quindi perdo il concetto di posizione però il metodo contains e il metodo add sono gli stessi qui devo sostituire perché nel metodo add esame cosa devo fare devo prima controllare se l'oggetto è presente se non è presente lo aggiungo altrimenti ritorno false come faccio a sapere se l'oggetto è presente utilizzo contains ed il metodo è uguale sia nella hash set che nella linked list lo stesso è il metodo add in questo caso invece voglio trovare un esame quindi voglio dato un codice ricevere tutte le informazioni relative a quell'esame quindi ottenere l'oggetto esame come faccio in una linked list se avessi utilizzato una linked list o un array list avrei creato un nuovo oggetto esame avrei sfruttato internamente il comparatore della linked list che compara due oggetti utilizzando il metodo equals equals in esame è stato ridefinito infatti equals fa il controllo che i codici siano identici e mi restituisce la posizione se la posizione è meno 1 vuol dire che non è stato trovato se invece la posizione è diversa da meno 1 vuol dire che si trova all'interno della mia collezione e quindi posso ottenere l'oggetto in quella posizione nel caso di un hash set è tutto molto più semplice perché quello che devo fare è semplicemente esami punto get e gli passo new esame codice null null non mi ricordo come si chiama il metodo scusate esame punto contensi tre clear size scusate mi viene un dubbio ok non mi ricordavo questo particolare l'hash set non prevede di restituire l'oggetto ossia come metodi add permette di inserire contains ci dice se l'oggetto è presente iterator permette di iterare permette di rimuovere l'oggetto però non mi sembra che ci sia il metodo che ritorna un oggetto perché si ok quindi come faccio per scusate non mi ricordavo questo particolare allora come faccio per ottenere un oggetto a partire da un hash set devo utilizzare l'iterator quindi esami punto iterator quindi iterator esame it uguale esami punto iterator questo lo commento importo java utile iterator quindi quello che sto cercando di fare è ho un codice voglio sapere se questo esame è contenuto all'interno della collezione e se è contenuto se l'esame è corrispondente a questo codice è contenuto all'interno della collezione e se è contenuto voglio ritornarlo quindi per prima cosa scopro se è contenuto o meno perché questa è un'operazione che posso fare in tempo costante quindi if esami punto contains new come scritto prima new esame codice null null quindi se mettiamo una riga di commento controllo se la collezione contiene l'esame se lo contiene allora ha senso cercarlo quindi utilizzo poi un iteratore se non lo contiene è inutile che lo cerchi e quindi semplicemente scrivo return null questo qui è un trucco in realtà avrei potuto benissimo provare a cercarlo e se alla fine non l'avessi trovato ritornare null il problema è che avrei perso tempo perché iterare su tutta la collezione è un'operazione o grande dn è un po' come cercarlo all'interno di una lista e quindi avrei perso il tempo per ottimizzare prima mi chiedo se c'è se c'è allora lo cerco come faccio a cercarlo utilizzo l'iteratore quindi while it punto as next if it punto next esame e uguale it punto next if e punto equals new esame in cui passo il codice allora faccio return e qui inserisco un return null soltanto per perché il metodo vuole che venga sempre ritornato un valore però so che questo valore return null non verrà mai ritornato in questo caso perché se entro nell'if l'esame è per forza contento nella collection quindi per forza ritornerò e ad un certo punto dell'iterazione se invece non è contenuto ritornerò null spero che sia stato tutto chiaro scusate per un momento di indecisione che ho avuto prima avete delle domande? generalmente quello che genera un po' di un po' di confusione è questo ossia quando utilizzo il metodo contains e passo un nuovo oggetto con il codice perché questo funziona? perché io creo un nuovo oggetto esame ma tanto so che il confronto avviene poi su una proprietà che ho definito in equals siccome equals l'ho ridefinito dicendo utilizzo soltanto il codice per il confronto due oggetti che hanno campi diversi ma hanno lo stesso codice siccome io ho ridefinito equals sono per me identici e questo trucco lo posso sfruttare ogni qualvolta voglio cercare un elemento all'interno di una collezione quindi non ho bisogno di riempire tutti i campi quindi non mi interessa riempire i campi titolo docente eccetera mi interessa semplicemente riempire il campo codice addirittura per renderle più semplici avrei potuto costruire un altro costruttore con solo il campo codice per rendere il codice un pochino più pulito quindi public esame string codice e poi scrivere dis punto codice uguale a codice in questo caso scrivo anche super anche se in questo caso siccome non stiamo ereditando nulla non è prettamente necessario in questo caso ho definito due costruttori di costruttori ne posso definire quanti ne voglio se non ne definisco nessuno vuol dire che eredito quello da di object ma se lo ridefinisco posso ridefinirne quanti ne voglio in base anche ai campi a cui sono interessato ricordandoci che creare un oggetto riempiendo solo alcuni campi è pericoloso perché gli altri campi sono null e quindi se poi vado a fare delle operazioni su questi altri campi il programma mi restituirà una null pointer exception quindi tutti questi trucchetti funzionano a patto che uno sappia quello che sta facendo quindi su questo oggetto new esame che in questo caso tra l'altro non associa neanche ad una variabile ma creo e passo subito al metodo non devo poi andare a fare nessun'altra operazione in questo caso non è possibile ma se avessi scritto esame esame uguale new esame codice su questo oggetto esame non devo fare nulla per questo motivo per evitare che possa fare errori lo creo sul posto in modo tale che non possa chiamare nessun e non possa accedere a nessun altra proprietà l'hanno definito vedete è un po' uno spreco lo stesso oggetto o un oggetto simile lo creo due volte ma è meglio così perché così evito errori è tutto chiaro questo allora abbiamo visto che in questo caso la scelta dell'hash set non è stata particolarmente felice perché l'hash set è ottimo per sapere se contiene un oggetto è ottimo per aggiungerlo ottimo per rimuoverlo però non avevo pensato che effettivamente non è per nulla ottimo se voglio quel soggetto perché se lo voglio devo utilizzare un iteratore e quindi iterare su tutta la collezione forse in questo caso sarebbe stato molto meglio utilizzare una hash map quindi commentiamo questa anzi possiamo addirittura rimuoverla sostituiamo all'hash set la importiamo già avuti l'hash map e come tipo di generics in questo caso dobbiamo specificare due valori il tipo di oggetto della chiave e il tipo di oggetto valore come chiave cosa utilizziamo utilizziamo il codice dell'esame che mi sembra sia una string alfonumerica quindi utilizziamo string e lo stesso lo andiamo a specificare quando creo questa collezione allora in questo caso sappiamo che ha un metodo contains vediamo esami punto contains questa volta però il metodo è specifico ci sono due versioni contains key e contains value voglio sapere se la collezione contiene una chiave o un valore siccome sono interessato a sapere se questa collezione contiene un esame l'esame è un ovviamente identificato dal codice dell'esame posso utilizzare contains key e semplicemente gli passo e punto get codice che mi sostituisce il codice dell'esame e lo vado a sostituire a questo metodo scritto prima quindi faccio il controllo se la collezione esame non contiene nessuna chiave che è pari a quella che ho ricevuto come argomento del metodo allora aggiungi nella collezione una nuova coppia chiave valore dove la chiave il codice dell'esame è il valore e l'oggetto esame quindi il metodo add in questo caso è diverso si chiama put e scrivo esami punto put e punto get codice e quindi inserisco sia il codice che la chiave sia l'oggetto vediamo se adesso l'implementazione di trovo esame è un pochino più semplice per trovare l'esame prima di tutto vorrei sapere se è contenuto quindi potrei utilizzare esami punto contains chi e passargli la e passargli l'identificativo dell'esame oppure direttamente potrei utilizzare il metodo get il metodo get cosa fa? mi restituisce l'oggetto associato ad una chiave e quindi utilizzo esami punto get di codice in questo caso il metodo passa direttamente il codice salvo il valore ritornato in una variabile a questo punto esame a questo punto potrei scrivere due versioni del codice potrei scrivere o è uguale uguale a null allora ritorno a null altrimenti ritorno direttamente e ritorno a e quindi faccio il controllo se è uguale a null ritorno a null altrimenti ritorno l'oggetto ma pensandoci bene questo codice è assolutamente quindi semplicemente quello che potrei fare è scrivere return esami punto get di codice esami punto get di codice cosa fa? mi ritorna null perché il metodo se avete dei dubbi su cosa faccio il metodo basta andare sopra con il mouse viene fuori questa descrizione ci dice che il valore ritornato è quello associato alla chiave specificata oppure null se non viene trovato null se quella chiave non viene trovata quindi vediamo che in questo caso la scelta di una hash map è particolarmente felice perché sia l'aggiunta è veloce è semplice ma anche trovare un esame associato dunque al codice d'esame è particolarmente veloce subito abbiamo scritto pochissimo pochissimo codice vediamo se il funzionamento dell'applicazione è rimasto immutato provo a cercare provo a cercare ovviamente mi dice non trovato perché devo fare inserisci quindi esame aggiunto correttamente cancello tutte le informazioni provo a inserire un altro codice quindi dice non trovato corso non valido faccio cerca corso trovato e mi riempie con le stesse informazioni di prima avete delle domande riguardo i due tipi di implementazioni che abbiamo rivisto molto semplice semplicemente abbiamo modificato il model la cosa interessante che volevo farvi notare è che abbiamo toccato il model non abbiamo toccato l'interfaccia grafica quindi il funzionamento dell'applicazione è rimasto invariato perché l'interfaccia grafica non contiene nessuna logica dell'applicazione è completamente scollegata quindi anche se cambio il model se non essi il model di un'altra persona e lo mettessi l'applicazione continuerebbe a funzionare perché l'interfaccia con cui il controller e il model si parlano che sono i metodi pubblici del model non sono cambiate semplicemente cambiate l'implementazione e questo è un pattern estremamente forte in Java estremamente potente siccome ci rimane un crompo di tempo vorrei guardare insieme il laboratorio 2 una parte della soluzione del laboratorio 2 perché secondo me aveva diversi punti interessanti da vedere allora vediamo se trovo il testo il laboratorio 2 aveva un'interfaccia in cui era possibile inserire nella casella di testo una o due parole se inserivo due parole la prima corrispondeva alla traduzione era una parola da inserire nel dizionario la seconda era la traduzione associata alla prima se invece inserivo soltanto una parola volevo cercare all'interno del mio dizionario la parola inserita e volevo sapere qual è la traduzione di questa parola ad esempio se avessi inserito Andrea alieno cercando poi alieno non avrei trovato nulla cercando Andrea avrei trovato alieno quindi dovrei aver caricato già la soluzione su su git per vedere le soluzioni che carico ci sono diversi modi la prima è andare nel tab release di gitab nel tab release trovate non so se ve l'ha già fatto vedere il professor Fulvio ma qui trovate i progetti in formato zip o tar in particolare il progetto di base la soluzione del primo esercizio e la soluzione del secondo esercizio se invece volete direttamente vedere il codice senza scaricarvi lo zip dovete andare su questa casella dove c'è scritto branch master e selezionare il branch e tipicamente sono sempre chiamati così soluzione esercizio 1 2 oppure senza nessun numero se ce n'è soltanto una cliccando lì qui dopo potete navigare nel codice ed è particolarmente comodo perché se vi interessa se avete un dubbio evitate di scaricare tutto tutto il progetto e potete navigare nel codice perché git il git lo espone in modo particolarmente chiaro io invece ce l'ho in eclipse in particolare vediamo la soluzione dell'esercizio 1 dove veniva richiesto di implementarlo nel modo più semplice possibile non avevamo ancora visto il concetto di model view controller ma in realtà facendo una divisione in classico con alien controller creando poi un alien dictionary si aveva già una divisione molto simile a quella del model view controller perché alien dictionary non era nient'altro che il model quindi nel controller cosa facevo? cerco di ingrandire un pochino il testo c'era un metodo do reset molto semplice che semplicemente permetteva di resettare l'interfaccia grafica qualcuno mi ha chiesto se il metodo do reset doveva anche triggerare il reset del database si era una possibilità ed era semplicemente bisognava aggiungere la chiamata un metodo del model dove veniva implementato il reset della struttura dati poi in realtà tutto veniva svolto all'interno del metodo do translate quello che avevo chiesto era di modificare tutto il testo inserito in lowercase in modo tale da facilitare la ricerca e l'inserimento e soprattutto ero interessato a far sì che il programma fosse il più robusto possibile robusto significa che il programma non deve andare in crash se l'utente inserisce in modo scorretto gli input immaginate non so se Word si chiudesse in realtà Word si chiude spesso ma immaginate se Word si chiudesse ancora più spesso a causa di un errore dell'utente perché non è stato gestito quindi voi come programmatore dovete sempre pensare a tutte le condizioni di errore possibile e cercare di gestirle in questo caso era molto semplice perché l'utente poteva soltanto interagire con una casella quindi dovevate controllare che questa casella fosse vuota non fosse vuota e che inserisse una o due parole e magari anche non più di due parole quindi al massimo due parole per cui quello che faccio prendo utilizzando getText il testo della casella di testo lo salvo in una variabile string che si chiama riga e poi controllo se riga è uguale a null e se la lunghezza è uguale uguale a zero se la lunghezza di riga è uguale a zero vuol dire che non ho inserito nulla e quindi stampo semplicemente un messaggio di errore che ho scritto inserire una o due parole e poi faccio return questo è importante perché fa terminare il programma un metodo molto carino per dividere una stringa una stringa di input sulla base di un carattere è questo quello di utilizzare uno string tokenizer che è un oggetto specializzato nel dividere in token una stringa ricevuta in input infatti passo riga che è la stringa che ho preso direttamente dal text field e poi specifico quale è il carattere che deve essere utilizzato per separare i token in questo caso è lo spazio in realtà dovrebbe funzionare anche senza specificare il carattere spazio perché il carattere spazio è il carattere di default dello string tokenizer forse è anche scritto nel però non lo trovo comunque per sapere per poter accedere al primo utilizzo in realtà qui faccio un controllo superfluo perché io ho già controllato che l'utente abbia inserito qualcosa perché se non avessi inserito nulla nulla riga mi avrebbe restituito uguale uguale a zero però siccome voglio essere particolarmente pignolo metto anche un controllo sullo string tokenizer lo string tokenizer ha una serie di metodi però i più interessanti sono i seguenti sono count tokens has more elements has more tokens next token dove elements sono il numero il numero di elementi in cui viene separata il numero di elementi in cui viene separata una stringa stringa input e se st has more elements mi restituisce nulla mi restituisce nulla vuol dire che non ho inserito nulla quindi come faccio un attimo esmore elements ok infatti mi veniva il dubbio quali fossero le differenze tra esmore elements e esmore tokens in realtà nella nella descrizione c'è scritto che hanno lo stesso valore che ritornano allo stesso valore quindi sono perfettamente equivalenti quindi per estrarre la prima parola come faccio utilizzo next token vedete che è un concetto molto simile a quello dell'iteratore per accedere all'elemento successivo utilizzo next quindi se ho superato tutti questi controlli vuol dire che almeno ho inserito una parola come faccio a ottenere questa parola utilizzo next token adesso voglio sapere se esiste una seconda parola e chiamo esmore tokens perché questo metodo come l'iteratore ogni volta che lo chiamo ogni volta che chiamo next avanza e quindi a quel punto posso utilizzare il metodo esmore tokens per sapere se ne ha ancora altri e se ne ha ancora altri posso utilizzare next token ed è proprio quello che faccio qua estraggo la prima parola e poi mi chiedo ce ne sono altri se ce ne sono altri estraggo anche la seconda parola e la metto e la salvo in translation se non ce ne sono allora faccio altro in particolare so che se ci sono due parole devo inserire nel dizionario e se invece c'è soltanto una parola devo fare una ricerca quindi vediamo cosa succede quando voglio inserire nel dizionario uno dei controlli degli errori che avevo chiesto di fare era anche quello di far sì che l'utente non potesse inserire dei caratteri che non fossero quelli a z quindi che non fossero le lettere dell'alfabeto sia maiuscole che minuscole in realtà qui ho già convertito in tool or case io utilizzo soltanto le lettere minuscole però per mantenere l'implementazione il più possibile aperta utilizzo anche quelle maiuscole come fare a controllare se una stringa matcha un'espressione soddisfa un'espressione in particolare quali caratteri sono permessi e quali no sì nei linguaggi di programmazione c'è uno strumento estremamente che è quello delle espressioni regolari ovviamente le espressioni regolari sono all'esterno capire come funzionano sapere programmare espressioni regolari esula dagli obiettivi del corso però quello che vorrei che sapeste è che esiste come strumento e dovete utilizzarlo ogni qual volta dovete fare dei controlli sui caratteri in input in particolare come si scrive questa espressione regolare si mettono due parentesi quadre e all'interno specifica il range di caratteri ammessi e poi si mette un carattere speciale che è quello di asterisco oppure il più quindi potevo scegliere se mettere asterisco o più cosa significa più? significa tutti i caratteri che ho specificato tra parentesi quadre possono comparire una o più volte asterisco zero o più volte quindi la differenza tra più e asterisco è che una parola vuota matcha questa espressione regolare se invece mettessi una stringa vuota con il più non matcherebbe questa espressione in realtà io ho già controllato prima che la stringa non fosse vuota quindi mi basterebbe quindi vanno bene entrambi non funziona perché l'espressione regolare significa cosa? è possibile allora che nell'intima poi viene implementata l'espressione regolare nel motore di java perché l'implementazione specifica aggiunga un carattere esempio più di default però la controlla perché se mi ricordo bene c'erano diverse persone che al laboratorio non mettevano in più l'asterisco e non funzionava quindi ti chiedo di funziona ok allora niente è possibile che l'implementazione di java non lo richieda qui cosa faccio controllo che entrambe le parole sia la traduzione che la parola originale soddisfino questi pattern se non li soddisfano stampo questo messaggio di errori inserire solo caratteri alfabetici e poi faccio return è sempre importante aggiungere return dopo il controllo di errore perché se faccio il controllo di errore ma poi vado avanti è come se non l'avessi fatto se ho soddisfatto tutta questa serie di controlli allora ha senso inserire una parola e quindi indichiamo il metodo add word di alien dictionary e poi stampo anche una 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 stampa di debatto giusto per informare l'utente che ho inserito qualcosa se invece ho inserito una sola parola e quindi voglio richiedere la traduzione di quello che ho inserito mi trovo nella seconda mi trovo in questo branch dell'if controllo che la parola inserita soddisfi questo pattern az quello famoso az in questo caso ho una sola parola quindi faccio un solo controllo se lo soddisfa richiedo la traduzione per questa parola poiché la traduzione mi istituisce una stringa questa stringa potrebbe essere null se la parola non è non è trovata per questo motivo faccio il controllo translation è diverso da null se è diverso da null stampo la traduzione se invece è uguale a null scrivo la parola cercata non esiste nel inizionario se è diverso da null la stampo se è uguale a null informo l'utente che non esiste la traduzione il metodo initialize non l'ho toccato e generalmente vi consiglierei di non toccarlo per il metodo initialize mettiamo soltanto tutte le operazioni relative all'inizializzazione dell'interfaccia nulla di più se vogliamo fare un'inizializzazione più avanzata nel metodo main come penso vi aveva fatto vedere il professore posso estrarre il controllore e poi creare un metodo statico o comunque un metodo del controller da richiamare per fare un altro tipo di inizializzazione avete domande riguardo a questa parte comunque gestire tutte le condizioni di errore non è semplice forse qui sono stato un pochino prolisso ma forse si potevano scrivere in modo più compatto ma ricordatevi che è uno dei punti che valutiamo all'esame ed è anche uno dei punti più difficili poi da implementare in pratica nelle applicazioni reali perché in questo caso c'era soltanto una text field nelle applicazioni reali ci sono decine di controlli centinaia di controlli quindi controllare che lo stato di tutti questi è veramente complicato ok adesso vediamo come invece viene implementato il model era molto semplice è un dizionario quindi avrei potuto benissimo utilizzare una hash map perché in questo caso avere un concetto di chiave valore la chiave è la parola il valore è la traduzione della parola tra l'altro la ricerca sarebbe stata anche velocissima perché utilizzavo le tabelle di hash però siccome non avevamo ancora visto la struttura dati hash map e volevo farvi esercitare sulle liste ho deciso di implementarla con le liste in particolare qua utilizzo un array list ma perché siccome non facciamo operazioni di aggiungiamo soltanto non cancelliamo non facciamo operazioni di inserimento che non siano alla fine della lista l'array list mi è sembrata migliore perché occupa meno memoria rispetto alla linked list quando utilizziamo una lista come regola la famosa regola del dito utilizziamo sempre l'array list domandiamoci se invece poteva aver senso utilizzare la linked list ossia se non faccio cancellazioni o se non inserisco elementi che non siano alla fine della lista non ha senso utilizzare una linked list è molto meglio utilizzare un array list la classe Alien Dictionary definisce due metodi che sono add word e translate word add word significa aggiungi una parola al dizionario translate word aggiungi una parola e la traduzione al dizionario translate word dammi la traduzione per quella specifica parola se fosse stata una hash map come prima il codice era banale era una riga nel caso di una lista è un pochino più complicato c'erano diversi modi per risolverla tra le varie tre consigli che avevo dato nella soluzione c'era quello di definire un metodo compare diciamo che il metodo compare in questo caso non faceva nient'altro che quello che fa il metodo equals però volevo che capiste che comunque il metodo equals può essere rimplementato se necessario sotto forma anche di un altro metodo quindi se io nell'oggetto word implemento un metodo compare che mi restituisce true o false in base all'uguaglianza tra due oggetti se la se la se la parola inserita è uguale posso utilizzare posso iterare sull'intera lista poi utilizzare compare per sapere se l'oggetto è già presente o meno quindi dictionary è la mia list itero su dictionary per ogni parola su cui itero mi chiedo questa parola è identica a quella che ho passato alla string alien se è identica vuol dire che la parola esiste già nella mia collezione e quindi semplicemente aggiorno la traduzione con il metodo set translation se invece non è presente quindi arrivo alla fine del ciclo for allora creo una nuova parola e poi la inserisco nel dizionario translate word fa lo stesso itero su tutti gli elementi della collezione mi chiedo se sono uguali se sono uguali mi faccio restituire la traduzione per quella parola word è una classe semplicissima un java bin semplicissimo con due proprietà che sono alien word translation e poi semplicemente ho dei getter e setter due costruttori uno che accetta soltanto una string alien word e uno che accetta una string alien word e translation due string per lo stesso motivo di prima perché se voglio cercare una parola la cerco sulla base di alien word quindi non voglio utilizzare il costruttore con entrambi i campi voglio utilizzare solo quello più semplice ridefinisco equals siccome ridefinisco equals devo anche ridefinire hash code e li ridefinisco sulla variabile alien word perché ho definito che i due oggetti sono uguali soltanto se hanno la stessa parola se non la stessa alien word questa era l'implementazione diciamo più semplice avete delle domande su questa implementazione? secondo me invece è molto più interessante la seconda soluzione la soluzione del secondo esercizio che è molto simile ci sono soltanto un paio di cambiamenti nel model nel model in questo caso non sfrutto più il metodo compare perché di fatto come ho detto prima il metodo compare non è altro che una ridefinizione del metodo equals come fare a sfruttare quindi equals utilizzo i metodi offerti dalla classe interfaccia collection che sono ossia contains e poi quelli offerti dall'interfaccia list che sono index.of e get quindi per raggiungere una parola devo prima sapere se questa parola esiste nel per sapere se esiste utilizzo contains cosa fa contains fa lo stesso che facevo prima iterare su tutta la lista e poi utilizzare un metodo per il confronto però se prima questa implementazione l'avevo scritta io e quindi era possibilmente esposta ad errori adesso utilizzo quella di java che è più compatta e evito di riscrivere il codice contains itera sulla lista e come metodo per verificare l'uguaglianza utilizza equals poi se contiene questo se l'oggetto è già contenuto se la traduzione è già contenuta allora devo aggiornarla quindi mi faccio restituire l'oggetto utilizzando get get però richiede un indice come faccio a sapere l'indice a cui si trova l'oggetto che so che esiste però non so dove si trova utilizzo index.of quindi prima chiamo il metodo index.of su dictionary passandogli la parola v word la parola word che ho creato a partire dalla stringa quindi index.of utilizza equals per dirmi a quale indice si trova a quale indice del mio array si trova questa parola poi utilizzo get per ottenere questa parola che si trova a quel particolare indice e poi sulla parola restituita chiamo il metodo set translation passando la stringa a translation quindi aggiorno la traduzione importante non utilizzare mai get passando gli index.of senza prima aver fatto il controllo su contains perché in questo caso è sicuro utilizzarla qui perché sono sicuro che la collezione contiene l'oggetto ma se non avessi fatto questo controllo e avessi utilizzato direttamente get e index.of mi avessi restituito meno uno avrei ottenuto un'eccezione di tipo index.autobound.exception tra l'altro se andate con il mouse sopra un metodo nella descrizione vedete anche quali sono le eccezioni generate da quel metodo e questo è particolarmente interessante perché potete decidere quali eccezioni gestire e quali no perché le eccezioni vanno sempre gestite perché un'eccezione non gestita è un'eccezione che fa crescere il programma se invece l'oggetto non è se la parola non è stata già inserita allora allora cosa faccio la inserisco però piuttosto che creare una nuova parola siccome l'avevo già creata una per la ricerca la sfrutto setto la traduzione su questa e poi aggiungo questa nuova parola al dizionario nel caso di translate word faccio la stessa cosa che ho fatto qui ossia prima mi chiedo utilizzo contains per sapere se è contenuta nel caso in cui sia contenuta allora mi faccio restituire qual è la parola perché quello che voglio ritornare è un oggetto tipo string quindi l'oggetto string corrisponde a traduzione nel caso di una parola invece restituisco null nel caso in cui non trovi la traduzione ci sono ancora beh l'implementazione invece di word enhanced è estremamente semplice è un java bin in cui al posto della traduzione che era una stringa prima adesso utilizzo una lista ultimi cinque minuti vi spiego come si faceva la ricerca con le wildcard perché quello che veniva chiesto era anche di permettere la ricerca con le wildcard perché perché non si ricordasse era la seguita quindi alieno se scrivo andrea alieno inserisco questa coppia di parole poi se scrivo androa bla 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 inserisce anche questa coppia di parole con traduzione se invece a questo punto inserisco andr punto relativo a quello che mi ritorna sono entrambe le traduzioni perché questo perché nel testo avevo detto che il punto integrativo doveva essere considerato come una wildcard ossia qualsiasi carattere possibile adesso vi spiego quale secondo me è la soluzione migliore nel caso in cui allora nel controller faccio un controllo addizionale ossia la parola dei due if no scusate nell'if in cui ho una sola parola quindi ho inserito una sola parola nell'interfaccia devo cercare questa parola contiene il carattere punturativo se lo contiene allora chiama il metodo translate word con wildcard se non lo contiene chiama il metodo translate word classico quindi in alien dictionary ho due metodi translate word classico che è quello di prima che abbiamo visto semplicemente utilizzo contains del dictionary translate word con wildcard invece fa una serie di operazioni in più che comunque sono abbastanza semplici la prima cosa è quella di sostituire il punto interrogativo con il punto perché perché il punto interrogativo era la wildcard nel mio linguaggio ma nel linguaggio della regular expression la wildcard che può essere sostituita a qualsiasi carattere è il punto come faccio a sostituirlo io uso replace all e utilizzo questi due caratteri che sono il backslash per fare l'escape perché il punto interrogativo è anche un carattere speciale poi anche il carattere escape è speciale quindi devo mettere due volte il carattere escape perché non venga cancellato e perché consideri il punto interrogativo come carattere speciale poi a questo punto quello che faccio è lo string builder non è nient'altro che un oggetto che al suo interno permette di salvare una concatenazione di string perché sapete che la string è un oggetto immutabile quindi se faccio string a più qualcos'altro viene creato un nuovo oggetto a partire dalle due string che ho passate invece lo string builder evita che vengano creati una marea di oggetti nel leap perché aggiorna la string all'interno di esso contenuta quindi quello che faccio è siccome non posso sfruttare contains non posso sfruttare contains perché non voglio modificare il metodo equals perché contains all'interno utilizza equals quindi o vado a modificare equals dicendogli adesso però non fare più soltanto il confronto tra due parole fai il confronto utilizzando le wildcard questa è una possibilità però siccome non voglio toccare equals allora ritorno alla soluzione dell'esercizio 1 ossia itro di nuovo su tutta la collezione e per ogni parola utilizzo un mio comparatore che si chiama compare wild e se compare wild mi istituisce true allora chiedo la traduzione e la inserisco all'interno dello string builder quindi diciamo che l'istruzione chiave l'istruzione chiave all'interno di questo metodo sono due una è questa che viene utilizzata per sostituire il carattere punto interrogativo con il punto e l'altra è questa compare wild specifico il mio comparatore perché non volevo modificare equals altrimenti avrei voluto sfruttare contains cosa fa compare wild compare wild è semplicissimo chiama semplicemente matches perché avendo sostituito al punto interrogativo punto di fatto ho definito un'espressione regolare perché è una stringa che contiene caratteri a z più il carattere punto è un'espressione regolare quindi sfrutto matches per fare il confronto direttamente vedete mi piace particolarmente questo codice perché è molto pulito ho definito semplicemente ho utilizzato al massimo i metodi esposti da java senza ridefinirne dei miei quindi scrivendo il meno codice possibile vi è chiaro tutto il passaggio forse è l'ultimo pezzo del matches vi ha un attimo non è chiarissimo il matches semplicemente è come equals di string però è un pochino più potente perché non solo fa l'equals non solo confronta che i caratteri siano identici ma confronta anche che le due string soddisfino l'espressione regolare vedo che sono le 7 e direi che possiamo concludere qua arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti